Sono Pino Desario, il docente di fare gruppo teoria e tante pratiche. Vi illustro in questo video il senso di sicurezza che un insegnante può provare a sviluppare nella sua classe. La sicurezza, la vedremo in maniera sia metodologica che pratica, è l'incontro di due qualità. Una è quella di fare esprimere e anche controllare. È l'insieme di due qualità tra cui appunto l'aprire, l'indurre la classe, i ragazzi, i bambini a esprimersi, a manifestarsi, ma al contempo anche contenerli e contenere. Per cui queste due mosse importanti corrispondono a due riflessi del nostro sistema nervoso autonomo, simpatico e parasimpatico, di agire e rilassare o contenere. Ecco, queste due mosse sono fondamentali. Le riprendiamo sia dalla psicologia sociale che anche dalla neurobiologia interpersonale. Ripeto, la sicurezza non è un unico segno, ma è un doppio segno. Quello di fare esprimere e controllare, aprire e contenere. Per cui anche nella dinamica didattica di una lezione sarà importante molto rispettare da parte dell'insegnante e al contempo anche spingere la classe verso una didattica più coinvolgente, più pratica e più attiva. Per cui questi sono alcuni elementi che svilupperemo, ce ne saranno molti altri. Questi sono i primari del corso sul gruppo in classe e in particolare il fare gruppo teorie a tante pratiche. Grazie.